Il regolamento in materia di contrasto e fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la mozione Made in Italy e l'approvazione del rendiconto della gestione 2023 della provincia di Pescara sono solo alcuni dei temi all'ordine del giorno dell'ultimo consiglio provinciale ordinario convocato per oggi prima delle elezioni comunali di giugno che riguarderanno anche il comune di Montesilvano di cui il presidente Ottavio De Martinis ricopre la carica di sindaco uscente e ricandidato. E proprio in considerazione del prossimo appuntamento elettorale il presidente De Martinis risponde così a chi interpreta politicamente il consiglio provinciale di oggi. Io non penso ci siano ripercussioni assolutamente in merito a quelle che sono le dinamiche provinciali, sono certo che il bilancio avrà il favore di tutta la maggioranza ma anche come successo in passato in un contesto in cui si lavora d'insieme anche da parte della cosiddetta opposizione. In questi anni abbiamo lavorato di squadra e continueremo a farlo intanto per superare quelle difficoltà dettate appunto dalla legge del Rio e dalle conseguenze della legge del Rio e per rassicurare al territorio tutto quello che necessita. Intanto le elezioni comunali a Montesilvano si avvicinano, insomma qual è la situazione con il centrodestra che in questo caso non sembrerebbe essere proprio unito? La situazione è in uno stato di stallo dal momento in cui c'è una certezza che è quella della mia ricandidatura con una lista civica dove sono confliti peraltro gran parte dei componenti del gruppo Lega di Montesilvano e una situazione che vede la Lega, il mio partito aver scelto qualcun altro al mio posto e Fratelli d'Italia e Forza Italia invece che hanno dato ampio sostegno insomma alla mia ricandidatura. Io resto in attesa ovviamente come giusto che sia, certo è che il tempo scorre e quindi io penso che comunque la situazione vada trovata nel minor tempo possibile e resto sempre in attesa di un confronto con il partito Lega che non c'è mai stato nonostante la mia richiesta. Io ho saputo delle scelte del partito e delle scelte del segretario regionale Luigi Dermo, dai giornali e questo è veramente forse tra tutti gli aspetti quello più antipatico. Mi auguro si possa divenire quanto prima a una soluzione conclusiva e soprattutto che ci possa essere un confronto per capire a fronte di cinque anni di ottima amministrazione, a cinque anni di lealtà e serietà da parte mia quali possano essere stati i motivi che hanno indotto appunto un partito a fare una scelta diversa da quella che invece era quella naturale.